Le suonerie dell'iPhone fanno schifo, vi insegno come crearle Ciao belli, benvenuti qui sul mio canale, oggi vi insegno come creare suonerie per il nostro iPhone Infatti su Android basta avere una canzone scaricata sul nostro telefono e la si può impostare semplicemente come suoneria Invece questo sull'iPhone non si può fare, bisogna acquistarle Però certo, acquisti 1000€ di telefono e 1€ per la suoneria, se potrebbe anche spendere Poi dopo esistono persone taccagne come me che invece se le vogliono creare Allora vediamo come fare Per fare questo ci sono 3 step e avremo bisogno di 2 applicazioni gratuite Il primo step è effettuare una registrazione schermo di un video su YouTube In modo che da lì potremo estrarre l'audio della canzone Le due applicazioni da scaricare sono La prima, Documents, un'app gratuita che ci permetterà di convertire il video in audio E la seconda è GarageBand che è preinstallata già sui nostri iPhone Se l'avete cancellata basta andare sull'App Store, cercarla e il gioco è fatto e basta riscaricarla Nel frattempo che state scaricando queste due applicazioni Potete benissimo mettere un like al video e sulla fiducia perché ancora non ho fatto vedere nulla E mettere un like al video e iscrivervi al canale in modo da supportarmi Allora eccoci qua ragazzi, ora andremo a vedere il funzionamento La registrazione dello schermo per prendere l'audio della canzone già l'ho effettuata Ora vediamo proprio il procedimento vero e proprio Questa qui è l'applicazione Documents che vi avevo detto di spiegare L'apriamo E andiamo a selezionare Album fotografici In modo che potremo visualizzare e poi estrarre l'audio dalla registrazione schermo che abbiamo effettuato Allora adesso io ho tolto il volume perché il Cioè perché se no questo video verrebbe bloccato per violazione del copyright ovviamente Allora andiamo ad aprire Album fotografici Foto Selezioniamo il video In questo caso è questo qua Allora avremmo preso anche parti di video che non ci serviranno Dopo vi farò vedere sull'applicazione come tagliarli Allora Una volta che ecco qui adesso stiamo visualizzando il video Basterà cliccare su Quest'icona qua E una volta cliccato lì Arriverà Comparirà ecco Questa schermata dove ci dirà di Estrarre l'audio Noi facciamo estrae audio Estrae un mp3 Che questo poi verrà salvato all'interno della nostra app file proprio nella cartellina documents Allora quindi con documents abbiamo fatto Ora passiamo a quello che dobbiamo fare con garage band Allora eccoci qua Una volta aperta Una volta aperta l'applicazione ci troveremo in questa schermata E allora ci potremmo muovere Dopo garage band ha diverse funzioni Studiata appositamente appunto per i musicisti Noi ora non ci interessa Dovremmo utilizzare questa funzione qua Registratore audio Allora andiamo ad aprirla Allora una volta che ci troviamo qui Dovremmo per prima cosa andare a cliccare su questo più che vediamo qua Piccolino Allora Clicchiamo su questo più Allora qua praticamente selezioneremo la lunghezza Diciamo della canzone Cioè in realtà non è proprio così Però adesso non vi sto a spiegare nel dettaglio com'è Comunque sia impostiamo tutto su automatico 8 misure Una volta fatto questo Dovremmo cliccare Aspetto torniamo un peletto indietro Dovremmo cliccare su questa icona qua Fare un tap Su questa icona qua E ci ritroveremo in quest'altra In quest'altra schermata Allora adesso mi era partito l'audio Scusatemi E ci ritroveremo in quest'altra schermata Da qui andremo a selezionare dall'app file Il file appunto che abbiamo creato prima con documents Allora faccio vedere anche un pochettino come muovervi Perché se non la trovate Innanzitutto ecco qui vi mettete su file Poi cercate recenti E su recenti in automatico vi verrà l'ultimo Però adesso vi ho fatto vedere che Andiamo un peletto indietro Qua praticamente c'è Proprio all'interno di Dell'app file sul menu La sezione documents Quindi troveremo tutto molto molto facilmente E da lì andremo a selezionare la nostra canzone Lo vedete insomma dalla data Perché o gli date un nome nel momento in cui la salvate Oppure ecco lo vedete dalla data Allora adesso avremo questo file audio qui Spostandoci Cioè per ritrovare il ritornello O la parte della canzone che a noi ci piace È semplicissimo perché possiamo farlo tramite le onne Infatti solitamente quando c'è il ritornello Le onne si alzano E quindi lì lo trovate E possiamo tagliarla accorciandola Praticamente Prima di tutto possiamo Quindi lo faccio vedere Allora la selezioniamo Aspetta torniamo un peletto indietro Così non avete visto nulla Allora La selezioniamo E poi la riportiamo L'accorciamo insomma Questa parte basterà farla soltanto inizialmente Finché non raggiungiamo il ritornello Perché tutto quello che avanza Verrà poi ridotto a 30 secondi Come è una sonneria Quindi taglierà lui in automatico tutto quanto Quindi non c'è alcun tipo di problema Una volta fatto questo Dovremmo riportare la canzone a capo Allora appena fatto Vabbè adesso qui sta Sto ascoltando Ma ho come ho detto Ho tolto l'audio Allora I miei brani Allora una volta fatto questo Ci troveremo qui Allora clicchiamo qua Andiamo su I miei brani Poi Clicchiamo su Condividi Mi raccomando Condividi Mi raccomando condividi Eccoci qua Poi andremo Tocca per creare Una sonneria personalizzata Per iPhone Così noi Abbiamo creato La nostra sonneria Dopo la esporteremo Daremo il nome appunto Alla sonneria Questo vabbè quello che esce fuori Dopo noi qui ci scriveremo Il titolo della canzone Tac Questo scritto Suoneria Prova Clicchiamo su Esporta Esporta come suoneria E ci chiederà subito Se impostarla A posto Come avete visto È semplicissimo Creare sonnerie Con l'iPhone Ci vuole Ecco Qualche passaggio Che una volta Imparato E assimilato Diventa tutto Velocissimo Con questo Vi saluto Ciao a tutti Da Creative Addicted Punto Net